L'1 e il 2 novembre si avvicinano e mentre in altri luoghi come ad esempio a Napoli si valuta di chiudere i cimiteri per il giorno di ogni santi ed il successivo di commemorazione dei defunti, a Fano la situazione sembra più tranquilla. Con il nuovo DPCM del 13 ottobre diminuisce il numero di partecipanti che potranno assistere ai funerali dei propri cari, ridotto solamente a 30 persone, mentre le disposizioni saranno applicate anche per i visitatori dei luoghi di sepoltura. Mascherina sempre indossata ed in maniera corretta, coprendo naso e bocca, continua igienizzazione delle mani che potrà essere fatta mediante stazioni di gel messe a disposizione all'ingresso di ogni cimitero e mantenimento del metro di distanza. Restrizioni che hanno l'obiettivo di contenere i contagi, che vedranno alzarsi il numero dei visitatori che vanno a visitare appunto i propri cari al cimitero in maniera esponenziale rispetto al resto dell'anno. Potenziata in occasione dei primi di novembre, la navetta disponibile per il cimitero dell'Ulivo di Fano. Per usufruire di tale servizio, oltre a mascherina e igienizzazione delle mani, sarà necessario compilare un modulo di autodichiarazione Covid, fornito dall'operatore all'ingresso del mezzo. Nei giorni di maggior afflusso dell'1 e 2 novembre e anche comunque i giorni immediatamente precedenti, ci sarà anche l'aiuto della polizia locale per quei cimiteri maggiormente frequentati affinché non si creino assembramenti. Per quanto riguarda il servizio potenziato da parte appunto dei servizi cimiteriali, si va a potenziare il servizio di navetta per il cimitero dell'Ulivo, che ha un servizio navetta tutti i giorni dalle 9 alle 12 regolarmente. In occasione delle festività, della ricorrenza dei morti e dei defunti, c'è un potenziamento della navetta anche al pomeriggio, iniziando da questo sabato e questa domenica, che ci sarà la navetta anche al pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, per poi esserci per tutto il periodo di queste ricorrenze, quindi dal 24 di ottobre fino al 2 novembre e tutti i pomeriggi. Io mi auguro che tutto sarà regolare, che comunque sarà possibile andare a visitare i propri cari nei giorni delle ricorrenze. L'assessore alla qualità urbana di Fano, Fabio Latonelli, inoltre fa sapere che in vista dell'1 e 2 novembre saranno fatti lavori di consueta manutenzione e pulizia in tutti i cimiteri comunali. Per ora in cantiere, aggiunge, nessun progetto di manutenzione straordinaria. A Pesaro, invece, afferma il presidente di Aspes, Luca Pieri, le disposizioni saranno le medesime applicate a Fano, mentre per quanto riguarda la manutenzione, dichiara che i cimiteri di Pesaro non ne necessitano, poiché l'intervento di Aspes è costante ed i luoghi di sepoltura sono sempre tirati a lucido.